Ecco lo stilello maglio ragazzi! Rieccoci tutti quanti nel canale insieme come sempre per un'altra grande giornata radiosa Oggi parto subito con un saluto a Carmen, un bacio e poi volevo introdurre subito uno scoop, una bella perla perché è già da un po' di video che parlo di calcio e per oggi volevo darvi una perla di mercato perché paratici non si ferma mai, questo è lo spirito Juve, sempre alla ricerca di nuovi campioni da inserire in rosa e nelle ultime ore, circa un giorno fa, quindi 23 ore fa, si è parlato di nuovo, perché era già una cosa che era già a mezzo del possibile trasferimento di Donnarumma alla Juve a parametro zero e non solo il portiero Milan che potrebbe essere un tassello enorme, averlo come primo portiero della Juve e secondo Scesni ma anche Wijnaldum, fortissimo giocatore come sappiamo della nazionale onandese e del Liverpool stracampione d'Europa due anni fa e davvero un giocatore fenomenale che oltre a difendere bene sa anche segnare, nonostante sia un difensore e quindi questi veramente sono scoop che non potevo non far altro che condividere con voi e sperare che Paratici e Corubini insieme alla supervisione di Nedved e di Pirlo riescano a portare in convento quindi vediamo come andranno le cose, speriamo che facciano questi colpi a gennaio o comunque a giugno a parametro zero vediamo ragazzi poi oggi volevo parlare prima delle frasi che hanno fatto un po' scalpore di Mario Sconcerti su Pirlo che ha detto chiaramente che Pirlo deve ascoltare di più e soprattutto deve smettere di scaricare il barile e le responsabilità su Tudor sono frasi abbastanza piccanti soprattutto considerando che è praticamente la giornata cruciale per Pirlo è il suo esordio in Champions League prima del girone fondamentale e una trasferta delicata in Ucraina quindi sono frasi che fanno discutere e un pochino forse troppo forti troppo esagerate e diciamo incoerenti e comunque ci ha abituato molto spesso Mario Sconcerti a queste tipologie di frasi un po' provocanti provocatori nei confronti di allenatori e non solo anche dei dirigenti e non so se Pirlo ribatterà una frase di questo tipo però comunque diciamo che non ha non ha fatto piacere e sono convinto che Pirlo si sta assumendo molte responsabilità e non credo che Tudor chiaramente un assistente così come Baronio ma Pirlo ha fatto decisioni sue sicuramente quella di giocare i giovani o comunque anche il modulo sono state dettate dalla sua idea di calcio perché comunque Tudor come tutti sappiamo è un esperto di 3-5-2 non di 3-4-1-2 o 4-3-3 o 4-3-2-1 faccio per dire tutti questi moduli un po' reinventati da Pirlo sulla Juve perché come tutti sappiamo con Sarri e Allegri abbiamo visto dei gran 4-3-3 qualche volta il 3-5-2 nei momenti in cui doveva essere messa a posto la difesa perché subivamo troppo ma questi moduli sono inediti e io sono convinto che Pirlo abbia messo il suo calco il suo zampino in questa Juve che piano piano si dimostrerà sempre più incisiva in attacco e come abbiamo visto comunque prende pochi gol questo è un dato di fatto rispetto alle Juve di prima e quindi non sono pienamente d'accordo con queste minacce tra virgolette di sconcetto in queste dichiarazioni un po' forti e quindi vedremo un attimo cosa succederà stasera e l'altra provocazione lanciata oggi in giornata è stata quella di Lucescu come ho detto ieri la vecchia volpe del deserto delle steppe che ha detto che i 11 giocatori, i 11 campioni come quelli della Juve non bastano per fare una squadra quindi diciamo queste sono state le due fiamme rosse che hanno riscaldato un po' gli animi dei tifosi e anche delle dirigenze e della natura stesso Pirlo e noi dobbiamo contro ribattere col coltello fra i denti a tutte queste dichiarazioni diciamo forti e accattivanti perché comunque siamo una squadra, lo possiamo dimostrare non è detto che 11 campioni non possono essere coesi è proprio questo su cui sta lavorando Pirlo perché ne abbiamo assolutamente bisogno quello che ci è mancato fino adesso è costruire una squadra ringiovanita con senatori esperti ma anche giovani in grado di migliorare, di scoprire il loro talento e non avere paura di giocare partite di cartello come quella di stasera e quindi io sono super super fiducioso che questa sera possiamo portare a casa i tre punti ci sarà di nuovo una super attenzione verso Morata che è chiamata a fare il CR7 della situazione e Dybala che tra i tre mesi di infortunio fortunatamente sono state cancellate le voci del suo malumore probabilmente si andrà verso il rinnovo e giocherà dal primo minuto quindi i tre mesi di stop gli sono serviti comunque per recuperare gamba e adesso dovrà bisogno di minuti speriamo che giochi bene, che ci faccia godere anche stasera, faccia qualche gol e spero che non si faccia male chiaramente perché sarebbero veramente dolori ci serve troppo anche per il campionato e poi Ramsey che scalpita, Ramsey super pronto a dare il massimo ha recuperato dall'infortunio a ginocchio da quando era la squadra nel Galles contro la Bulgaria e quindi adesso vedremo che cosa potrà fare anche in Champions con questa nuova posizione dietro le punte che è più il suo ruolo, più offensivo, più un attacco come l'abbiamo visto con l'Arsenal un giocatore in grado di segnare anche magari dai 6 ai 10 gol stagionali con tanti inserimenti, tanti assist, tanto sostegno per i compagni in attacco e soprattutto in quella posizione lì può fare anche il taglialegna a centrocampo può aiutare il centrocampo a 4 quindi già avere il centrocampo dietro che fa filtro è importante e vedremo appunto anche questa nuova posizione come sarà e come renderà il giocatore Gallese da cui mi aspetto tanto anch'io per concludere quindi vi chiedo anche stavolta come ho fatto col Crotone contro la Juve di dirmi come finirà la partita sarò curiosissimo di sapere cosa ne pensate nei commenti anche voi di come giocherà la Juve, di quale sarà il punteggio se siete fiduciosi che questa Juventus potrà passare il girone come io mi auguro e quindi passeremo il pomeriggio come al solito a scambiarsi delle opinioni e a valutare tutte le possibilità della partita magari anche vedere quali saranno i possibili cambi, subentri durante la partita e probabilmente domani insieme discuteremo anche di come sarà andata di cosa poteva essere migliorato e di cosa potrà fare Pirlo nelle prossime partite di Champions per dare quella marcia ancora in più alla Juve e nel video ragazzi volevo lanciarmi un'ultima creme della creme una cinesina sulla torta che da parte sempre degli scoop di calcio mercato è spuntato anche un altro nome per l'attacco delle ultime ore ma se ne era già parlato Raul Jimenez di Wolverhampton che chiaramente come sempre ha smentito perché ha detto che tutta l'estate è stato bombardato di questi rumors ogni giorno si svegliava con un nuovo nome nel giornale di una nuova squadra in cui si sarebbe dovuto approdare ed era sempre stato affiancato alla Juve ogni fine mese e quindi probabilmente del vero ci sarà stato nel momento in cui la Juve stava cercando di portare un centro avanti alla corte di Pirlo e soprattutto quando non era sicura di riuscire ad arrivare a Suarez che è poi andata all'Atletico e Morata che era un nome difficilissimo da riportare di nuovo a Torino e poi era sfumato Milik era sfumato Dzeko quindi quel nome era abbastanza caldo durante tutta l'estate quindi chissà se il buon Paratici che è stato super riconfermato e non andrà mai alla Roma riuscirà a portare qualche altra perla qualche altra attaccante di lusso a Torino vediamo cosa succederà anche su questo fronte ragazzi mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto il video e lasciate un like appunto mi raccomando pollice alto iscrivetevi al canale come fate sempre siete davvero in tanti ogni giorno e attivate la campagna dell'alarma è super importante davvero così potete ricevere sia i video vecchi che non avete ancora visto e quelli nuovi dello Steve Allomagno che ogni giorno con grande gioia e buon umore vi porta su YouTube un abbraccio ragazzi fatemi sapere chi vuole essere salutato all'inizio video ciao